la luce dell'alba mi strappa dal sonno credevo di essere a casa invece sono in treno diretto tutta la nostra produzione fin dall'inizio fin da 2012 è stata incentrata sempre sul utilizzo creativo degli archivi siamo sempre partiti da storie che stavano all'interno degli archivi per cercare di raccontarle in modo anche diverso da come si fa solitamente utilizzando materiale di repertorio il percorso che ha portato al barco è stato un percorso naturale con federico ferrone michele manzolini avevamo già sperimentato l'utilizzo dei materiali amatoriali in modo efficace all'interno del treno van mosca dopo quell'esperienza e anche su sollecitazione stessa dei due archivi che sono parte del progetto cioè un movies qua di bologna e istituto luce abbiamo deciso di pensare un nuovo progetto un nuovo progetto che fosse in qualche modo un'evoluzione del percorso fatto del treno van mosca siamo passati da un racconto della realtà narrato da un testimone nel caso del treno van mosca a un racconto sempre di fatti reali ma attraverso un personaggio inventato perciò è come un film di finzione realizzato con materiali della realtà questo è lo scarto un po rispetto al al passato trascorriamo una notte un giorno a borsa nel cuore della transilvania gli abitanti vestiti a festa ci offrono cibo e un letto di paglia e la notte di santelia per la scrittura del del varco abbiamo lavorato in circa un anno immergendoci nei due archivi che erano alla base di questo progetto nell'archivio del luce nell'archivio di un movies di bologna all'inizio abbiamo voluto non cercare frammenti di una storia che già avevamo in testa ma perderci proprio nell'immagine e capire quale fosse la storia che ci interessava proprio partire da quello che avremmo trovato nei due archivi nell'archivio di un movies una volta che abbiamo capito e volevo raccontare una storia sul campagna di russia abbiamo trovato due fondi stupefacenti di due cinematori e soldati durante la campagna di russia che erano enrico chierici e adolfo franzini e sono il corpus principale delle immagini che abbiamo utilizzato nel film gli archivi ufficiali invece del luce ovviamente sono molto ricchi di quegli anni e siamo riusciti in qualche modo a creare un un'amalgama che di materiale che in qualche modo utilizzasse i fondi privati e i fondi e i fondi pubblici al montaggio grazie a maria fantastica valmori la montatrice abbiamo cercato di rendere coerente l'utilizzo dei materiali amatoriali dei materiali di repertorio e che potesse raccontare una storia di finzione quindi utilizzando flashback salti indietro nel tempo ma anche in qualche modo in un nel futuro dell'odierno ucraino il freddo mi strizza le ossa e mi entra nel cervello toccherà aspettare la primavera ma quale primavera i nostri due film hanno in comune sicuramente il punto di partenza nella ricerca di immagini d'archivio del passato che ci colpiscono per la loro bellezza bellezza in varie accezioni ma bellezza sostanzialmente senza che debbano servire un discorso prestabilito qualche funzione nel caso del treno a mosca il film sostanzialmente di natura documentaria anche se è ricco di rilavorazioni di ellissi di libertà che ci siamo presi nel raccontare questa storia nel varco invece si tratta di un'opera di cura finzione in cui noi prendiamo immagini provenienti da anni diversi da sguardi diversi da registri diversi ufficiali amatoriali militari e poi le rilavoriamo con la nostra sensibilità creando un universo completamente nuovo di finzione non del tutto staccato dalla realtà ma come le opere di finzione appunto libero e assolutamente personale il film ha un unico personaggio il cui punto di vista è lo stesso dello spettatore personaggio che non ha nome che ha un passato di cui sappiamo qualcosa ma non tutto e che abbiamo costruito come si costruiscono i personaggi di qualsiasi opera di finzione un po' ispirandoci ai documenti dell'epoca in cui ha vissuto un po' inventando un po' lasciandoci guidare dalle suggestioni appunto nostre o dell'altro sceneggiatore booming 2 oppure anche dalla voce dall'interpretazione di Emilio Clementi che appunto gli dà voce il mio russo è ancora incerto ma quando parlo mi capiscono si fanno più dolci e ancora più malinconici il territorio delle Emilia Romagna è un territorio molto speciale per chi lavora con gli archivi c'è sensibilità verso questo tipo di materiali e ci sono le strutture che si occupano di mantenere e conservare i materiali di repertorio anche quelli destinati più alla distruzione come i film di famiglia strutture come la Cineteca di Bologna e come Home Movies che è il principale archivio nazionale per il film amatoriale di famiglia sono delle ricchezze fondamentali del territorio e sarebbe difficile fare un film del genere altrove noi abbiamo messo poi in connessione questa ricchezza del territorio con anche gli archivi istituzionali di Istituto Luce però ecco avere la possibilità di lavorare su questo territorio in connessione con questi importanti archivi e col sostegno della Film Commission e della Regione è stato fondamentale essere al Festival della Mostra del Cine di Venezia con un film come questo per noi è importantissimo è importante per l'esperienza in sé, è importante anche perché si racconta un pezzo importante della storia d'Italia quello della campagna di Russia durante la Seconda Guerra Mondiale e poterne parlare per la prima volta nel principale festival italiano è veramente molto bello e molto importante per noi ci aspettiamo sicuramente di intercettare anche un pubblico diverso rispetto agli altri film precedenti che abbiamo realizzato perché siamo all'interno di una sezione dove ci sono anche film di finzione e vorremmo che anche questo film fosse accolto in questo modo come un esperimento narrativo di finzione non come il classico documentario d'archivio fatto con materiali luce eccetera «Cosa farai finita la guerra?» mi chiedono un bagno caldo e una tavola imbandita vino, pasta asciutta e fichi e poi buttarmi in un letto ma un letto vero e sentire il suono delle campane e poi e poi i